Anche nel 2020 sono olio, legumi e tonno i prodotti individuati dal progetto Spesa per Tutti, nato nel 2016 per aiutare le famiglie in difficoltà economica a trovare generi alimentari, è presentato nella sede del Banco Alimentare alla Mercafira Firenze, da Regione Toscana, Banco Alimentare, Caritas, Unicop, Conad ed S. Lunga. La Regione ha finanziato di nuovo il progetto con 150.000 euro. Nel 2019 sono stati consegnati 16.000 pacchi spesa, il doppio di quelli degli anni precedenti. Un progetto che mette in sinergia tanti soggetti e che funziona e funziona bene, nello stesso tempo però ha anche la constatazione di un bisogno alimentare che cresce e che richiede sicuramente l'attenzione delle istituzioni e l'attenzione di tutti noi. È la Caritas a individuare le famiglie da coinvolgere nel progetto, con priorità per quelle numerose, con minori e con disabili, per combattere la povertà alimentare. Noi abbiamo rilevato 8.000 più 8.000 famiglie, ci sono 9.000 minori presenti in uno stato di povertà e attraverso i nostri centri, in parte modo abbiamo rilevato attraverso 9 impori, abbiamo distribuito nello scorso anno 1.500 tonnellate di generi alimentari che sono andati a circa 3.000 famiglie. I generi alimentari acquistati dalla Caritas presso la grande distribuzione che garantisce prezzi di favore sono presi in carico dal Banco Alimentare al centro polivalente Mercafir. È un format che funziona ormai da 4 anni, è un aiuto in più che tentiamo di dare alle famiglie toscane in difficoltà, come aiuto in cibo ovviamente, dove i partner sono Banco Alimentare insieme a Caritas, che distribuiscono i prodotti acquistati da tre catene importantissime del territorio grazie a un finanziamento di regione toscana. Nel 2020 il progetto Spesa per Tutti conta di arrivare alla distribuzione di 19.000 pacchi alimentari.